30 giorni con il Sacro Cuore di Gesù, 13 giugno, occasioni pericolose. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Finora, dal Cuore Divino di Gesù, abbiamo attinto quelle parole che condannano il peccato. Ora Gesù vuole suggerirci anche il mezzo con cui possiamo evitare il peccato. Questo mezzo è la fuga dalle occasioni pericolose. Non c'è via di scampo. Vuoi fuggire il peccato? Devi necessariamente fuggire le occasioni. Prega pure, confessati finché vuoi. Ma se non fuggi le occasioni pericolose, sarà tutto fiato sprecato. Esamina ora la tua coscienza. Ti trovi forse impelagato in qualche occasione prossima di peccato? Quali sono le compagnie che frequenti? Vi si trovano forse persone con le quali ti permetti delle confidenze che fanno gemere il tuo angelo custode? Si trova forse qualche persona che ti insinua dei dubbi sulla fede? Ti sussurra parole che ripugnano sentirle? Ti allontana dalle opere di pietà e di carità? Ti invita a darti al bel tempo? Quali sono i tuoi divertimenti? Sono forse certi teatri dove gli occhi perdono la vericondia? Dove le passioni si sollevano impetuose? Dove sei anche testimone di atti tutt'altro che delicati? Sono forse certi ritrovi che non si sfoggia altro che vanità e leggerezza? Quali sono i libri e le riviste e i giornali che leggi? Sono seri, morali, religiosi oppure troppo facilmente? Causano mollezza? Incensano il vizio? E mettono in ridicolo la stessa virtù? La religione, la famiglia e il sacerdozio? Vesti dignitosamente oppure porti abiti che sono causa di tentazioni? Puoi affermare sinceramente che se sei già lontano da tutte queste occasioni pericolose? Ebbene, consolati e prosegui con coraggio. Il Sacro Cuore è con te. Non puoi dirlo? Allora sappi che sei sull'orlo del precipizio. Puoi cadervi da un momento all'altro. Fatti animo, a tutto c'è rimedio. Purché lo si voglia. Vuoi tu il rimedio? Contro il fuoco non si ragiona, ma si fugge. Di fronte alle occasioni pericolose, non ragionare. Fuggi. Prega il Cuore di Gesù che te ne dia la forza. Dico il povero lebroso, Signore, se vuoi, puoi guarirmi. Amen. Fioretto, cerca quale sia l'occasione che abitualmente ti fa cadere in quel peccato che commetti con maggiore frequenza e prendi la decisione di fuggirla ad ogni costo, scegliendo una mortificazione corporale per ogni caduta. Giaculatoria. Dolce Cuore del mio Gesù, sii la mia salvezza, il mio amore. Amen. Atto di consacrazione al Sacro Cuore Il tuo cuore, oh Gesù, è asilo di pace, il soave rifugio nella prova della vita, il pegno sicuro della mia salvezza. A te mi consacro interamente, senza riserve, per sempre. Prendi possesso, oh Gesù, del mio cuore, della mia mente, del mio corpo, dell'anima mia, di tutto me stesso. I miei sensi, le mie facoltà, i miei pensieri e affetti sono tuoi. Tutto ti dono e ti offro. Tutto appartiene a te. Signore, voglio amarti sempre più, voglio vivere e morire di amore. Fa, oh Gesù, che ogni mia azione, ogni mia parola, ogni palpito del mio cuore, siano una protesta di amore. Che l'ultimo respiro sia un atto di ardentissimo e purissimo amore per te. Invocazioni al Sacro Cuore di Gesù Amore del Cuore di Gesù Infiamma il mio cuore Carità del Cuore di Gesù Diffonditi nel mio cuore Forza del Cuore di Gesù Sostieni il mio cuore Misericordia del Cuore di Gesù Rendi dolce il mio cuore Pazienza del Cuore di Gesù Non ti staccare dal mio cuore Regno del Cuore di Gesù Stabilisciti nel mio cuore Sapienza del Cuore di Gesù Ammaestra il mio cuore Amen Che Dio ci benedica Faccia risplendere il suo volto su di noi E ci dia la pace Nel nome del Padre Del Figlio E dello Spirito Santo Amo 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 Grazie a tutti